In questo momento io mi collego con benessere Don Guido, benvenuto, anzi bentornato Don Guido, come stai? Che bello rivederti! Bene, grazie Monica! Che bello rivedere anche te! Come stai Don Guido? Bene, grazie a Dio, tutto bene. Tutto bene, allora prima di tutto vorrei salutare anche il direttore Giuseppe Altamore, che ci fa sempre compagnia anche lui la scorsa settimana, infatti lo scorso mese, scusate, è stato ospite anche lui. Allora, io volevo iniziare a illustrare il nuovo numero di benessere, il numero di giugno. Allora, iniziamo subito, caro Don Guido, leggendo il vostro primo piano, che lo avete dedicato all'obesità. Giù la ciccia in poche mosse, questo il titolo che avete scelto. Ci sono dei consigli molto carini, eh? È un titolo, sì certo, è un titolo molto evocativo, proprio perché vuole essere particolarmente incisivo. Intanto mi collegherei proprio a quello che ha detto il presidente della società di diabetologia, nel dire che, lo ha già accennato lui, ma che anche l'obesità è legata, come il diabete, a questa cosiddetta civiltà del benessere. Però non è il benessere come è scritto sulla nostra rivista con la E maiuscola, è il benessere con la E minuscola quello. Un benessere che tante volte è un falso benessere, perché appunto crea questi problemi. Ed è una malattia, appunto, che può riguardare quantitativamente anche un piccolo eccesso di peso. Non è soltanto legata a quelle immagini di persone che hanno del grasso strabordante, esorbitante. No, l'obesità può anche determinarsi a partire da piccoli sovrappesi. Come la determiniamo? Bisogna affidarsi al medico e a degli esami specifici, il primo dei quali è la valutazione dell'indice di massa corporea. È proprio un esame che si deve fare per stabilire clinicamente questa obesità. A questo vanno aggiunti anche altri esami specifici che noi nell'articolo consigliamo. È chiaro che, come è stato detto anche abbondantemente, la prima cosa da fare è lavorare su noi stessi e modificare i nostri stili di vita. Per chiudere un po' la bocca, questo lo diciamo sempre. Allora, passiamo all'articolo che voi avete dedicato alla prevenzione, come evitare il fastidioso prurito. Parliamo di dermatite atopica, che non è una malattia purtroppo solamente che colpisce i bambini, purtroppo colpisce anche, in piccola percentuale, anche gli adulti. Circa il 10% degli adulti ne soffre. È un'infiammazione cronica e può essere collegata a diversi fattori. Innanzitutto fattori ereditari, ecco. Ma anche, diciamo che è la percentuale molto alta, il 70% delle dermatiti sono dermatiti da contatto. Da contatto con che cosa? E spesso con degli elementi che interagiscono con noi nella nostra vita quotidiana, anche disinfettanti, detersivi, che entrano in contatto con la nostra pelle. Come si affronta la dermatite atopica? Beh, si affronta farmacologicamente con pomate cortisoniche, nel caso di presenza di allergia anche con antistaminici, però, così come ne abbiamo parlato anche qualche puntata fa, anche con la famosa fototerapia. Ti ricordi che ne abbiamo parlato a proposito della depressione? Sì. Ecco, può essere utilizzata anche per la dermatite, ma quella da privilegiare è la fototerapia naturale, quindi anche con moderazione mettersi al sole. Allora, Don Guido, parliamo dell'intestino pigro. Semplici consigli per risvegliare i nostri organi. Insomma, dall'intestino parte tutto, è il nostro secondo cervello, come lo abbiamo sempre chiamato. L'abbiamo definito. Sì, sì. Beh, intanto un numero molto grande, che dall'avvio a questo articolo di cui ci occupiamo su Benessere, che è 10 milioni di persone, che sono quelli che soffrono di intestino pigro. Sono moltissimi. Tanti possono essere i fattori che lo determinano. E ci sono dei consigli molto utili che voi date. E ci sono dei consigli molto utili, perché a parte, per esempio, per i bambini, l'assunzione e l'uso di uno zucchero modificato, il lattulosio, è per gli adulti, ritorniamo sullo stile di vita, fare movimento, avere una dieta equilibrata. Quindi anche l'intestino pigro possiamo affrontarlo consultando il dietologo, consultando il medico. Andiamo dal medico, non facciamo rimedi, fai da te. Passiamo all'epatite C. Nuova terapia, ferma il virus, le guarigioni ormai raggiungono il 90%. Il problema, purtroppo, è l'elevato costo del trattamento. Insomma, qui apriamo una voragine, Don Guido. Purtroppo sì. Abbiamo una voragine perché questi farmaci, che davvero garantiscono una guarigione nel 90% dei casi, e sono purtroppo molto cari, da un punto di vista economico, addirittura li si potrebbe equiparare, per la loro novità e per la riuscita della terapia, ai primi antibiotici che hanno sconfitto le malattie più gravi. Quindi pensate che grande progresso scientifico. Noi dobbiamo veramente augurarci che il cosiddetto welfare possa migliorare sempre nella misura in cui tutti possano avere accesso alle cure, guarire e vivere più a lungo. Poi, dimmi come mangi, il professor Filippo Ongaro, che insomma, ricordo, lunedì sarà qui anche a TV2000 da noi. Insomma, mettiamo a tavola dieci alimenti. Allora, ci dice, ci racconta. Eh sì. E professore, i dieci alimenti che dovrebbero essere assunti quotidianamente, e cinque cibi da evitare. Quali sono, Don Guido? I cinque cibi da evitare, purtroppo sono quelli più buoni, ma dobbiamo avere pazienza. Dolci, carni rosse, in particolare se molto cotte o lavorate, insaccati, burro e grassi idrogenati, formaggi e alimenti fritti. Ai noi. Non dico che li dobbiamo bandire, però li dobbiamo limitare molto, perché pur essendo molto buoni, non ci fanno bene. Esatto. E questo è importante anche per ricordare, e sembrerebbe una cosa assurda, ma in realtà è così, che anche malattie tremende, come il morbo di Alzheimer, attraverso i processi chimici, come per esempio la glicazione, possono essere collegati all'interazione tra lo zucchero, le proteine e i grassi, e anche componenti del nostro DNA. E allora tutti... È tutto collegato. Ecco, e tutti dovremmo mangiare riso integrale, questo riso integrale, una vera riserva di longevità. Sì, a parte che, diciamo che è un buon criterio per valutare la qualità di un determinato elemento e anche la sua antichità. E il fatto che questo riso integrale sia consumato dagli uomini fin dai millenni scorsi, ci dà una buona garanzia che possa essere sempre davvero preferibile per le nostre tavole. Quindi mangiare il riso integrale, mangiare naturalmente, mangiare con equilibrio, ben sapendo che ha l'alimentazione collegata a gran parte della nostra salute. E anche della nostra salute, mi permetto di dire, anche della nostra salute, oltre che fisica, anche spirituale. È come no. Perché un cibo equilibrato fa migliorare la qualità della vita nel suo complesso e ci fa veramente essere persone belle, dentro e fuori. Allora, con il numero di giugno potete anche acquistare questo libro molto interessante a proposito di dieta, La Nuova Dieta Mediterranea. Beh, insomma, è un libro scritto da Stefania Ruggeri, Lo stile di vita per tenere sotto controllo il peso, prevenire le malattie, vivere in salute e certamente felici. Questo è un libro molto interessante perché ci sono all'interno 70 ricette davvero molto, molto gustose. Certo, molto interessante e che porta, riporta al centro quella grande fortuna di cui parlava il nostro presidente dell'Associazione di Diabetologia, la fortuna di vivere in Italia dove possiamo alimentarci con la splendida dieta mediterranea. Allora, vi ricordo allora il numero di giugno di benessere è in edicola, però, Don Guido, io volevo ricordare insieme a te che oggi è la giornata mondiale senza tabacco promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, smettere di fumare prima di tutto è un grosso atto di amore verso noi stessi, è un grosso passo verso la longevità. Se nessuno fumasse, questi sono gli ultimi dati, il cancro ai polmoni sarebbe una malattia quasi inesistente. Sarebbe di gran lunga ridotta anche l'incidenza del cancro alla bocca, pensate, e alla vescica. La Lilt, di cui vediamo adesso il sito internet, da sempre si occupa di educare per debellare la dipendenza dal fumo e di informare sui danni causati purtroppo dalle bionde, dalle sigarette. Insomma, la campagna di quest'anno è bellissimo. Il titolo La tua salute non vale una cicca. È fondamentale. Noi del mio medico ci teniamo tantissimo. Smettete di fumare. Andate, ci sono, in tutte le piazze italiane, ci sono degli stand informativi. Chiedete, se volete smettere di fumare, fatevi aiutare. Non fumate più. Grazie davvero. Grazie Don Guido, Don Guido Colombo. Grazie Giuseppe Altamore. Grazie pubblico.